Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sonatok e rieccoci su Plague Tale Requiem. Ho passato un po' di tempo nel menu osservando che nell'effettivo abbiamo trovato molto degli oggetti che il gioco nasconde e mi sto permettendo di parlare sopra questo dialogo ragazzi perché lo abbiamo già sentito nel precedente gameplay e devo dire che abbiamo fatto un buon 50% del titolo quindi sicuramente ci manca qualcosa. Nelle fasi iniziali soprattutto ho perso molto dell'erbario di Yugo però in ogni caso siamo stati decenti nell'esplorazione. Se è possibile rigiocare i capitoli precedenti recuperando semplicemente i collezionabili vedrò di farlo. È qualcosa che mi interessa davvero sia per una questione di completismo personale e anche perché no per scoprire se il gioco vuole narrarci qualcosa. caspita è cambiato tanto dall'ultima volta. Siamo stati qui letteralmente un giorno fa nella realtà. Nel titolo invece quanto? Mezza giornata? Chi? I bambini stanno giocando sotto al tavolo. Comunque stavo dicendo passando un po' di tempo nel menu mi sono reso conto che nell'effettivo anche l'opening assomiglia molto a Game of Thrones. Per carità bellissimo però evidentemente il gioco non ha preso ispirazione ma se non altro ha amato determinate serie. Ma possiamo giocare? Possiamo ballare? Che brutta questa non interazione con gli NPC. È quello che manca a questo titolo. per creare un ambiente grafico così ricco per creare un qualcosa di così sensazionale. Hanno levato completamente vita ai personaggi che non siano i principali naturalmente. quando usciranno tecnologie come ace ragazzi di nvidia come ho detto anche in altri episodi tutto diventerà magico se ben implementato oppure verrà utilizzato in un modo molto piccolo da parte degli sviluppatori per creare un mondo finto senza troppo impegno. Speriamo che non sia così speriamo che si crei un qualcosa alla cyberpunk molto profondo. Speriamo restando che devo ancora giocare cyberpunk. Ma un giorno chissà con voi magari. Cosa devi dirci Sofia? Forse dovremmo liberare Arnoux che non sarebbe una cattiva idea? ma Sofia. ecco anche in scenare per voi spettatori per me che voglio immergermi nella storia un semplice dialogo come questo è infattibile. Il personaggio scappa si gira si compenetra ci scavalca e poi arrivi qui arrivi a questo bellissimo pino vedi l'ombra fantastica che ogni singola foglia proietta si infatti sono venuto automaticamente da qua perché si è visto che bisognava aprirla perché non lasciare qui di Hugo con Sofia la protettrice esattamente come è accaduto con i pirati che bella la vegetazione che cresce da qui dentro stavo vedendo se fosse tutto plausibile oppure semplicemente modellato per creare un qualcosa di carino e non mi sembra di vedere piante che crescano fra le pietre non parlo di questi fiori ragazzi questi fiori sono all'interno quelli ai piedi di Hugo si vide ma non ci sono piante sotto la torre il tutto sembra fatto abbastanza bene non ha modellato tanto per c'è della cura in questo davvero tanta addirittura c'era un doppio check per entrare accadrà qualcosa di davvero importante il guido era quel rendering sotto il mio viso era davvero cosa faremo? un attacco? oppure ci fingeremo ospiti? così come nell'effettivo siamo e cercheremo di scoprire qualcosa Hugo? che cosa farà? verrà con noi? dovremo lasciarlo? comunque ragazzi per quel problema di rendering che c'è stato poco fa delle texture non è un problema della configurazione di questo ve lo posso assicurare questo gioco dovrebbe girare in tranquillità semplicemente è stato davvero tanto appesantito quindi tecnologie come le ombre dinamiche come gli RTX dell'illuminazione varia è pesante soprattutto a questa risoluzione e con questo dettaglio grafico come tu lo sai? la missi ha pure tu un po' di fiducia dai è una donna che viveva per mare tante volte per fortuna bisogna vedere un po' come si vuole e si interretra il sogno in questo titolo un qualcosa di profetico legato all'alchimia un qualcosa dell'inconscio un qualcosa semplicemente delle avventure che viviamo ehi il primo fiore è una donna che non è la sorella di Yugo si è per la tua vita e poi una tempetta approccia c'è da dire però ragazzi che se davvero questi sono gli ultimi giorni mesi anni di Yugo la cosa migliore non sarebbe ora è un cavaliere uccello e sarebbe un qualcosa di fantastico passare questi ultimi momenti nella felicità lontano dai ratti lontano da persone che semplicemente ti vogliono sfruttare però allo stesso tempo mi circonderei di Icari mi circonderei di Luca la nostra madre Beatrice non possiamo abbandonarli dobbiamo scoprire se stanno bene ragazzi io sto camminando ossidamente wow è sensazionale e anche i petali che cadono sembra che sia possibile saltare in realtà caspita Amicia sono due metri grazie Sofia questo sarà utile in che evenienza visto che fa molto molto rumore buttare giù qualcosa tirare una cassa sarà davvero difficile da utilizzare wow guardate questa vista magnifica la madre ti manca ancora ma si arriva ma tu non vai adesso no non 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 ti manca 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 è felice anche lì sicuramente è da lì ma qui c'è un'interazione questa è acqua? no si lì lì ci distenderemo un secondo anche su ragazzi sarà un qualcosa di fantastico infatti ha fatto bene nel suo duro realismo è anche crudele e ci sta ecco gioco perché andiamo di fretta è evidente che non c'è tempo per queste cose queste piccolezze ma fermarsi qui un secondo distendersi bagnarsi magari i piedi solo nell'acqua di mare sarebbe stato un buon gesto e un bel gesto anche per Yugu mh occasione sprecata è stato incatenato non andrei perché è presente Yugu ma voglio osservarlo c'è qualcosa che ci permette di capire è stato colpito la testa l'inevedente stato di decomposizione ormai eh non è identificabile in nessun modo perché magari è un criminale che ha fatto cose terribili qui però però caspita siamo super fortunati in questo Yugu non fa altro che vedere morte un momento di bellezza e poi morte morte sono morte e purtroppo ci sta è stato frustato più volte e vedete il sangue ragazzi il sangue a terra si sta espandendo c'è da dire che è anche normale stiamo vivendo nel periodo della peste nera queste cose terribili purtroppo sono successe che queste cose sono pirati schiavista chissà se possiamo passare no non posso passare anche per questo esiste la pirateria aspetta prima che oh no sembra un posto che si romperà Sofia no noi opportunismo ora davvero davvero nessuno nei paraggi ha sentito questo anche solo in superficie nessuno si è accorto di niente ricordiamoci che aveva anche il potere di Sofia da utilizzare che è ottimo in queste situazioni per distogliere lo sguardo dei nemici e ho parlato troppo presto non possiamo fare nulla oh caspita sono sempre quelli i modelli però che peccato in questo caso c'è il modo di aggirarli tutti o meglio quasi tutti senza farsi scoprire forse distraiamo lì e decidiamo di andare si è girato? perché non si è girato? sono strani lì sopra non veniva per nulla accorto che morte terribile le vedette non ho alzato lo sguardo è stato un mio errore un mio grandissimo errore è anche un eroe del gioco che non ha fatto gelare il soldato però ok niente ok capisco cambio direttamente tattica dai mi hanno visto si è la prima volta credo che sia necessario uccidere guardate dobbiamo aprire la porta e per aprirla l'unico modo di utilizzare il nostro oggetto come faccio a utilizzarlo con i soldati? un singolo soldato oh caspita stavo dicendo un singolo soldato ucciso per vincere quasi ok dovremmo avere un po' di tempo uccidendo questi quattro soldati e come ho detto nel precedente episodio in una maniera incredibilmente semplice non c'è nulla che ci può fermare ragazzi nulla il semplice perdere è perché semplicemente sono gentile con i soldati perché non voglio spaventare Yugo o le persone che sono al nostro fianco ma davvero posso fare tutto quello che voglio aspettiamo qui distraiamoli magari in un modo mentre lui sarà distratto lì niente se lo distraiamo così forse ce la facciamo non era qui non era qui bel metodo però di difesa non ho nulla per abbatterlo che non sia in modo terribile mi dispiace sono schiavisti questa volta non sono nero anche agli ordini di qualcuno semplicemente lo fanno perché vogliono opportunismo immagino perché ho ucciso sfruttando l'ambiente circostante nel frattempo la nostra cautela però arriva a livelli sempre maggiori e sono felice davvero sono felice di quello che lampadario pesante ecco qui non ci sente nessuno e siamo a una porta di distanza semplicemente questo muro diroccato dietro erano presenti gli schiavisti la magia dei videogiochi la magia dei videogiochi bel modo di dirlo ma probabilmente è altresì vero che i sogni svelano solo in parte in questo caso almeno nel video gioco magari quello che va fatto abbiamo ancora tempo per scoprire cosa c'è dietro abbiamo ancora tempo per salvarti attrezzi equipaggiamento anche se tutto questo che sblocco in fin dei conti questa possibilità di recuperare oggetti e di evolverli in futuro cosa mi serve se tanto non attacco non possiamo davvero in questo caso cosa dovremmo fare far assistere yugo tutto questo oppure attaccare per salvare persone di cui non sappiamo nulla e far assistere comunque yugo qualcosa di terribile non 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 il modo più sbagliato quindi se mostrassimo i poteri di yugo tecnicamente si sottometterebbero si sottometterebbero si schiererebbero forse e anche morto suppongo e anche morto suppongo più la deumanizzazione è terribile aver visto tanto troppo tutto è così triste non potevi farlo quando c'era milo no 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 yugo ecco come profetizzavo quasi dal primo episodio mettiamo anche dal secondo magari era questo a cui miravo ragione in parte abbiamo ucciso ma non così non abbiamo ucciso gente sempre siamo stati sempre molto culati certo c'è da capire che lui la vede sempre con gli occhi di un bambino con gli occhi di qualcuno che non capisce bene cosa stiamo facendo vede solo il risultato però io speravo proprio di non sentire una frase del genere ahimè a parte che non è ucciderli più in fretta ma mangiati pian piano da piccoli morsetti di tantissimi ratti no non è più in fretta è un modo terribile anzi ma da dove sono usciti come sono arrivati possono essere arrivati con una barca ok ma non in questa quantità tanto da essere presenti sotto tutta l'isola non volevi restare sola c'è da dire Sofia che un poco poco di pespicacia in più non sarebbe stata male l'abbiamo visto a freschi ne abbiamo sentito parlare ora spero che in questo momento di questa chiacchierata nel gioco non c'è scelta multiple ok? però ci spero davvero che si modelli seguendo il percorso che abbiamo scelto anche solo una semplice conta delle morti ma tu devi essere migliore di così non lo è non lo è anche il curarlo sarebbe fantastico naturalmente per Yugo ma come la mettiamo per le persone che continueranno a cercarlo per chi ancora crederà che la maquila sia presente verranno da noi cercando di ucciderci e poi una volta che ci avranno attaccati una volta che avranno ucciso Amici e il rapito Yugo lo scopriranno cosa porterà non è questo il finale del gioco ragazzi si purtroppo poverina assolutamente no avrebbe potuto collegare il tutto anche quando abbiamo fatto eruzione nella sua base con Arnaud Arnaud aveva detto anche si si loro mi hanno aiutato infatti in quel momento avevo detto ma è possibile che non si fa domande al riguardo una donna astuta strano che si comporti così caspita ok prima di avanzare altra morte e distruzione altri cammini irti delle cose più brutte che possono esserci cadaveri e se quant'altro c'è una bambola che si 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 non tal caso conviene tenerla e magari un giorno se mai dovessimo riabbracciarla che non sarà così però fargli credere questa yugo questa piccola bugia magari lo aiuterebbe ad andare avanti ecco in questo caso il gioco deve essere cattivo quindi ci ha spiegato tramite le sofia quello che succede non sarebbe stato meglio non parlarne di fronte a yugo anche io ho paura di saperlo ma immagina la sua sorpresa nello scoprire che il figlio delle braci non approva quello che ha fatto pura stupidità non so se questo fa da protezione non ce ne hanno mai parlato nell'effettivo sono riusciti a chiedere il ponte ragazzi ragazzi ho davvero le lacrime nel pensare a quello che sta vivendo yugo non sono tutti morti sono scappata però sì ho dovuto uccidere qualcuno sofia davvero ha ripagato il nostro debito la musica diventa pesante la vista si appanna i colori scendono non eri andata a capo di un'organizzazione che comunque uccideva grazie possiamo riutilizzare tranquillamente i poteri di yugo qui ragazzi nel bene e nel male perché sappiamo questo cosa significa e sono stati utili per scappare da quel l'accompamento di schiavisti parlava degli schiavi grazie 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 E tu allora? Ma che fabbrica? Non è incredibile? Mi voglio buttare il culo. Ottima idea. Voi immaginate se uno schiavo urla, si spaventa, fa la spia in qualche modo. Cosa succede? Ci sono delle risorse, quindi vuol dire che usciremo. Mettendo insieme tutta questa morte, costruzione di sangue, cosa si aspettava? Folle. Che folle ragazzi. Con un po' di importanza la ama, no, non gli hai fatti venire tu. Copriti per favore, Sofia. Fa attenzione. Ma l'abbiamo acceso noi? Beh, potevi controllarlo. Grazie, Sofia. Sofia? Ah, ok. La stessa cosa che è successa con lo scudo di Arnaud, ragazzi. Vai. A differenza di Arnaud, dove vedevamo un fuoco fisico. Un qualcosa che comunque... Mi dà sicurezza. Con questo gioiello, finché non ti trovi in mezzo ai ratti, non sei sicuro di uscirne vivo. Non è una cosa bella. Ah, lì c'è un qualcosa da poter prendere, ma... Potrei utilizzare un va, come l'ho detto. Ma Sofia, in ogni caso, riuscirebbe qui a raggiungerci. Che peccato. Chissà, se troviamo qualcosa, potrei attirare i ratti altrui. Non so se funzionerà. Proviamoci. Sono troppi. Non si spostano, ragazzi. Che quantità... incredibile. Certo. Ecco perché mi hanno dato... il vasetto. Figuriamoci. Piccoli opportunisti. Cosa? Cosa è successo? Mi ha morso un ratto e ho perso il bastone. I soldati che sono rimasti. Mi ha ucciso solo uno, ragazzi. Ci terranno qualche problema. Non sono per nulla pronta e ho paura che sia Yuku in questo. Ora, il problema è questo. Cosa faranno? Chiuderanno la porta? Stanno venendo. Perdonami. Vediamo. Cazpita. Figli. Non l'abbiamo ucciso, ragazzi. Finché è lì e non ci dà fastidio. Buon per noi. Certo, avrei voluto raccogliere tante più risorse, ma... Non so come fare. Forse... Se lo distraggo... Oh, no, 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 con questa, no? Distraendolo dovrei riuscire a passare dall'altro lato. Oh, no, non mi guardare. No, non mi guardare. così prendiamo risorse ragazzi prima di passare non credo che ci sarà bisogno di prendere i ratti anche perché se solo volessimo potremmo tranquillamente utilizzarli con yuko cerchiamo di non farlo comunque in questi ultimi capitoli in questo soprattutto causato troppe morti vediamo cosa ci attende avrà fatto così terribile ragazzi probabilmente una specie di rituale di sangue nell'incoscienza più totale ripresa posso riprendermi facilmente anche l'ordine ha fatto qualcosa qui ragazzi è tutto così terribile abbiamo bisogno davvero di un ospitalio di tranquillità un momento di riposo io ne ho bisogno e in tutto questo massacro questa piccola pozzanghera è bellissima di sangue tra l'altro potremmo spegnere i fulchi non hai la precedente o meglio la prima protettrice è stata tenuta qui dentro eppure è un qualcosa di importante così come ci è stato detto da v don nel primo episodio forse Milo vuole diventare protettore e questo è il suo stupido pensiero qui che è stata tenuta in gabbia paura che ci rinchiuderanno ragazzi ci sono abbastanza sicuro proteggeli tutti e chi lo dice che della protettrice nostra madre fa parte dell'ordine in qualche modo è questa è l'innocenza ha visto morti ratti e quant'altro potrebbe esserci un ragno giustamente il suo fratello il centro sapeva quindi che il tutto si sarebbe ripetuto ancora e ancora questo spiega molto di più il parabraccio che abbiamo trovato nel precedente episodio no sopra ci sarà una battaglia dobbiamo solo capire come combatterla ma purtroppo Milo sarà resistente non ha armato ma quindi c'è un tardo olle esattamente come alcuni sacerdoti aztichi no? un qualcosa un'offerta è terribile ragazzi perché tecnicamente Yugo avrebbe potuto cadere in questo avrebbe potuto cedere al male decidere di conquistare esattamente come in One Piece magari abbiamo questo potere di creare attorno a noi un qualcosa di fantastico oh caspita e noi invece addio tutto fare molta attenzione a loro ragazzi ora ora caspita beh sono il tuo punto debole chi mi ha visto? oh e tu? cosa sei? sono troppo facili da battere una mia impressione quindi potremmo entrare e farla finita se continuo ad agire in questo modo ragazzi potrebbe essere davvero un pericolo è un pericolo è un grande pericolo non ho idea di come fare per farlo sentire meglio l'ideale sarebbe allontanarsi a tutto questo ma siamo andati su un'isola e i ratti ci hanno raggiunto Yugo tranquillo abbiamo conosciuto Sofia salveremo Arnaud perché lo salveremo ragazzi e ragazzi non è piena di ambizione non vorrebbe utilizzare più e questa è una cosa bellissima almeno non lo sta dando a vedere è uno specchio di quello che facciamo lo continuo a ripetere però la verità è che il gioco ci deve mettere al corrente di questo non possiamo evitarlo era una tappa necessaria è evidente sarebbe stato bello poter scegliere come arrivare a questo punto ma non tutti i giochi sono così alcuni giochi sono molto narrativi hanno una storia e questo titolo esattamente come nel percorso in cui ci imbocca ogni volta durante i combattimenti e l'esplorazione allo stesso modo è questo il suo modo di agire nella storia ora il conte la contessa Emily se mi ricordo bene wow ok è calata notte quindi è diventato tutto più scuro ma qui ragazzi siamo passati i campi erano in fiore no terribile noi siamo molto più forti di ratti è un qualcosa che sicuramente capirai prima o poi questo potere è fantastico dall'altro è un buon modo di utilizzare e creare un personaggio poteva non avere nulla di speciale invece all'improvviso lo ha che io ho avuto molta molta paura ha funzionato però possiamo switchare per i vari fuochi fermi calma Hugo mai un qualcuno che riusciamo a salvare la cosa triste ragazzi e che tutto ciò è legato non solo al comparto narrativo ma anche a quello grafico il titolo non riuscirebbe a mostrarci un NPC funzionante in più un gruppo di personaggi che è successo? non vogliono prenderlo no 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 Sofia chi è bloccato in questo punto ci sono i blocchi carino come meccanismo è ah lì semplice in realtà dobbiamo solo sperare che duri abbastanza e che altro era dato tutto al caso semplicemente se fosse caduta una roccia se fosse crollato strutturalmente addio mappa addio segreto poteva esserci un qualcosa di più decente come passaggio esattamente come è successo con la capretta dobbiamo ringraziare assolutamente Sofia non solo per quello che ci sta dicendo ma anche per quello che ha fatto ragazzi salvarci da Milo wow e questa è tutta luce lunare che bella wow fantastico è molto scenografico che cos'è che brucia non si riesce a vedere l'ho messo astutamente anche delle grate per impedirci di vedere e di caderci io non voglio dire che sono sicuro perché comunque non abbiamo prove ma secondo me esce alla casa del conte tutto questo percorso ragazzi non so come ciao sono entrato con la forza ma quanto spero che Aelia non sia arrivata tanto meno male costruivano tutto decentemente non c'è stato un minimo di cedimento strutturale in tutto questo Sofia giusto anche queste più semplici azioni ricordiamoci che per lei sono qualcosa di difficile non è abituata alla terra non giustificarla non c'è non c'è non c'è che forza basta basta accenderlo oppure dobbiamo anche romperlo forse mi sei dovuta coprire bellissimo tra l'altro qui grazie Sofia avevano buon gusto per i banchetti da potevano cambiarlo ci sono più punti in cui passare no è sempre lo stesso quindi dovrei farlo saltare in aria la paura sarebbe tantissima arrivare qua distruggere uno di questi barili in questa struttura antica è folle fiume fiume e che tu è il nuovo ricordo davvero questo per una singola fiume ma queste rientrano nell'erbario penso di sì ma ok con gli oggetti che abbiamo preso possiamo potenziare ne spenderemo di più sono le stesse del banchetto aspetterei sì l'armatura è la stessa e le maschere sono invece quelle che abbiamo visto o meglio simili a quelle che abbiamo visto utilizzare in quella cerimonia altra morte wow è enorme oi prividi ragazzi sembra di essere a moria ecco magari gli sviluppatori ci faranno anche qualche citazione in merito quindi facciamo attenzione nel attraversare il ponte davvero spaventoso eh inizierei in ordine ci vediamo a fine enigma ragazzi è semplice solo lungo ma posso arrivare lì certo potrei tranquillamente utilizzare i poteri di Sofia ma non posso aprire il baule vero posso cadere segreto ah c'è l'ordine era abbastanza semplice però ok in questo si vede molto che siamo comunque ragazzi tratto bambini ricordiamoci che Amicia è semplicemente un adolescente tranquilla si risolverà e ragazzi per quanto riguarda noi sono abbastanza convinto che per questo episodio ho registrato davvero tanto per quanto a differenza di altre volte ho fatto semplicemente un capitolo è stato bello denso di conseguenza una volta sperata quella soglia qualunque sia la verità metterò in pausa il titolo e ci rivedremo al prossimo episodio fermo restando che non esca un bardrock qui a distruggerci mi ricorda qualcuno si ma tutto questo è un loro spiegare i fatti secondo la loro visione non è così o non essere così una qualsiasi pista andrebbe bene ma ci sono ratti qui come mai ma è diventato giorno nel frattempo è un gioco di specchi erano tutti corazzati probabilmente era molto più forte di noi se riuscite a batterli tutti non aveva una fionda evidentemente sono viva sono viva e che questo ti sia in qualche modo da lezione non fare la stessa cosa questo primo piano del viso di Amicia ragazzi con questa qualità ci permette di notare davvero le occhiaie i raschi di mille battaglie fantastico sta diventando tutto troppo bello e commuovente ehi cosa è successo la telecamera ciao ah è un blocco bisognerà lavorare insieme quindi suppongo che sia così proviamo per fortuna che tutto funziona incredibilmente bene ragazzi non rimane ah dovrei dire a Sofia di lasciarlo se si incastrerà e ti pareva ragazzi come vi ho anticipato ci vediamo al prossimo episodio vedo se magari vale la pena già terminare questo piccolo enigma ma non avanzo aspetterò comunque voi e penso che tu vada lasciato qui nel tirare si il tutto alla prossima ragazzi e questo gioco è emozionante è appassionante è cosa fantastica voi siete qui a viverlo insieme e siete davvero in tantissimi e questa cosa è più che speciale grazie sì cosa hanno fatto peggio lei stava cercando di raggiungerlo dove lo avevano portato e questo spiegherebbe come mai i giocattoli sono stati portati qui per trattenerlo oppure lo stava proteggendo dietro questa porta l'importante è che entrando non arrivi una gigantesca mano che mi marchi a fugo alla prossima ragazzi non arrivi una gigantesca mano